Una difficile quadratura del cerchio, quella che il governo regionale sta ancora cercando in queste ore. La soluzione alla vicenda dei precari e degli enti locali dovrebbe arrivare attraverso un disegno di legge ma prima della definitiva approvazione il presidente della regione Rosario Crocetta con gli assessori interessati incontrerà i sindacati. L'appuntamento è per lunedì prossimo alle 11 mentre dopo ci sarà un incontro con i capigruppo della maggioranza. Successivamente il testo sarà discusso con tutti i presidenti dei gruppi parlamentari all'Ars e con le commissioni. Il disegno di legge è un testo che intende riordinare del tutto il sistema del precariato, prevede la proroga per tutti i lavoratori del bacino sino al 2016 e allo stesso tempo l'avvio delle procedure di stabilizzazione. Su tutto incombono però i paletti imposti dal governo nazionale. Le norme approvate dal Parlamento non prevedono deroghe al patto di stabilità, anzi obbligano la regione a ridurre le spese per una cifra uguale al costo delle proroghe. Dovrebbero essere circa 351 milioni di euro ma nel disegno di legge votato in giunta la copertura è solo per 250 milioni. Non è escluso dunque che anche una volta approvato il disegno di legge possa impantanarsi per una impugnativa del commissario dello Stato. Il tempo a disposizione tra l'altro è davvero poco. Il 31 dicembre infatti scadranno i contratti di gran parte dei lavoratori a tempo degli enti locali. I sindacati da parte loro hanno confermato lo sciopero e le proteste previste per i prossimi giorni.